e ora ci riesco più però poi mi hanno cambiato le carte ogni tanto no tu hai cambiato da quanto hai arzato la catena che hai fatto uno schifo no no quella va bene no andava bene e andostava prima andava bene e andostava prima quella catena no era troppa curta sì era troppa curta no ma che se vado a Sardegna lascia il segno ci saranno da fare 3.000 per dirla lì a Sant'Antico ci saranno 40 metri sta dentro l'acqua bella una torre tutta tagliata orizzontalmente ma hai visto deve essere pure facile hai visto una roccia oh ma hai visto come una mezza specie una colonna una colonna dentro però tutta orizzontale tagliata bella deve essere pure facile una scala ma lì sta andando invece ad andare al piccato Memmo lì in Australia eh beh quella è famosa quella torre là amma mia che roba eh beh quella è uno spettacolo ma spazio tu devi andare no 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 io non devo andare non preoccupare comunque pure lì a Sant'Antico ci saranno un sacco di quei torri quello è o quello su? no quello sopra è quello che dico io guarda lì sopra è sempre, è sempre mosso quello lì è andosta di te sì quello sopra ma io andavo a sinistra lì veramente questo è mio sì ma io andavo a sinistra però là mazza questa cosa faccia di capire io che eh ho capito ecco perché mi hai regalato no veramente te la sei appropriato no mi hai regalato te no mi sono appropriato cosa sta l'altro pezzo di questa? vediamo se lo sai sta lì al tempio bravo sta al tempio l'avevo lasciata là perché sono due anni fa la moglie di Gioia mi ha detto dice lasciami la corda là che io che ho fatto sì ma poi dopo riportala via sta ancora là se le donne non ti puoi fidarci no assolutamente due donne ci sono andate l'associazione al delinquere mi ha fatto mi raccomando però la corda riportamela sta ancora là ma questo viene aperto sinistra c'è una spaccatura sopra ma qual è quella che si muove? questa è una spaccatura questa è una spaccatura che si muove? in realtà non si muove è che è spaccato totalmente ah quindi viene giù o la buttano giù? esatto 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 guarda sotto queste le dà perché non è perché questo qua che è grosso è spaccato è crepato fino a sotto spososo e sotto è terroso no dentro ci sono un palanchino dall'alto però questo è tardi eh beh si no te devi portare un cric un cric un cric con la contogra un fili dentro e un brutto oh però c'è stato a mettere tanto io la faccio con 30 secondi era più corta ma erano 30 anni fa però 30 anni al secondo e poi oh e poi era più corta era 4 metri e 5 metri ma pensi